Come ti senti per questa grande festa? Guarda, ci sono tutti belli carichi. La tua canzone, la tua canzone. È dinamica, è dinamica. Mi sono un po' così... È uscita così, una canzone diversa da quella che ho presentato nei festival passati, per cui mi sento abbastanza carico per cantarla. Mi auguro poi di farcela. Grandissimo, grandissimo.